Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zepp, sto scherzando, ciao a tutti, io sono Visto Avvistato e questo è l'episodio numero 3 di Domande No Sense dalla rete, che poi è sotto i commenti youtuber, dalla rete, sigla! Le domande no sense, puoi trovare anche tu, ma son qui e le trovi su YouTube. Oggi abbiamo un ospite speciale che è Pallapazza che strumpallazza, ci sono un po' di buchi perché la bucavo da piccolo, però è lei, è Pallapazza che strumpallazza, quella originale. E' l'ospite di oggi. Ixanto ci chiede, ma se esistono i messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti? Sì, ovviamente, ma esistono anche i Maradona Topi. Nicolò Schiraldi ci chiede, cartellone cosa sponsorizza? Cartellone, come me, sponsorizza la Red Bull perché lui vola e mentre vola comprate la Red Bull perché ti mette le ali, quindi tutti pensano di diventare come cartellone, ma non è così. Quindi comprate la Fanta. Ma se il trampolino rimbalza sulla carta blu, il cielo esplode o balla la samba? Ma in realtà il cielo esplode e balla la samba, balla con samba, la samba. Conoscete tutti la samba. F.I. Games Y.T. che significa YouTube. Ma tu sei tu? No, io in realtà sono... Cartellinator! Davide Striano. Ma tu dormi sui poni? Mangi i fornelli? Sputi sui tori? Respiri la pasta? Grazie per le risposte. Allora, io dormo sui poni? Dipende come ti poni. Battuta del 1700, ma l'unica cosa che riuscivo a dire. Mangi sui fornelli? No, mangio sugli ornelli. Sugli ornelli vanona. Vanoni. Sputi sui tori? No, non sputo sui tori perché i tori sono fatti d'oro. D'ori. Ok? Sputo sui tori argenti. Respiri la pasta? No, perché la pasta con tonno la faccio solo Gucci Boy. Io faccio solo Verità Oscure. Grazie per le risposte. Prego. Eli Papagna. Non hai letto la mia? Sei cattivo? Ma un castoro è un toro col cascocco? Eh? Un toro? Un castoro? Oh, non l'ho capita. È una battuta. Ah, intanto l'ho letta la tua. Questa qua, l'altra no. A quanto pare non l'ho letta. Il toro, il castoro è un toro col cascocco. Il casco di banane, sai. Hai mai visto o avvistato albero facendo la cacca? Assolutamente sì. Ogni volta che fa la cacca dico prendiamo la pazza che sono un pallazza e guardiamolo insieme. E lo guardiamo insieme. Sì. Ci mettiamo lì e lo guardiamo. Perché i piccioni belli possono volare perché i sassi Papa Wenger, Tacchini Ragno non possono saltare due blocchi di diamante o rosa? Diamante o rosa? Diamante rosa, penso. Non lo trovo, struzzo. Lo struzzo non lo trovi perché ha messo la testa sotto la sabbia. E poi, i piccioni belli possono volare perché i sassi Papa Wenger, Tacchini Ragno non possono saltare due blocchi di diamante rosa. Che risposta ho dato. Persona bella, l'ho già letta questa domanda adesso. Il mio cane quando scorreggia diventa cobalto. Diventa cobalto? Balto diventa. Balto è un cane. Quindi diventa come balto. Diventa blu cobalto. Che bello la discoteca. Sì, guarda Erika la iaia. Là c'è la discoteca. Ero in disco sì, proprio come ogni dì. Ciao Croex89, chi ci stai seguendo? Se vado in centro a Milano posso trovare cartellone? Ah, se vai in centro a Milano trovi tutti i fili di cartellone. Saranno in 200 più o meno. Infatti, cartellone proviene da lì. L'ho trovato a Milano. Un giorno ho detto, andiamo a Milano a prendere un piccione. L'ho preso. Ho detto, tu diventerai cartellone. Facciamo vita che lui è cartellone. Tu diventerai cartellone. L'agente segreto di visto avvistato. Vola! Però non vola questa palla. La macchina, cose, è scarica. È scarica. Scusate, eh. No. Ah, ok. Io sono del Dakota comunque. Cioè, sono americano e vengo dal Dakota. Dal Nord Dakota, non dal sud. Dal Nord Dakota. No, scherzo, non è vero. Smer Hermerlal GTA 3 TG... TFG... WGF... When Gamers Fall... Fall... Come si chiama? Fail, fail. When Gamers Fail. Lion. Ciao Lion. Che mangi Lion. Ciao Lion che ci stai seguendo. Fai le verità su Eternal Love? Forse, forse non si sa. Non è una domanda no sense, però forse non si sa la risposta. Ma se mangi un gatto diventi puccioso come un gatto? No. In realtà il gatto diventa puccioso come me. La domanda è... Secondo te, se un palo esplode, i cani azzurri diventeranno pandacorni gialli e slal? Slal? Slal non so cosa... Slal non lo so. Non so cosa sia. Comunque sì, i cani azzurri rischiano di diventare dei pandacorni. Infatti sono a rischio di estinzione. Però non diventeranno pandacorni gialli, ma ocra. Okra, non l'oca, è okra. No. Si è mosso il filtro antipop. Questo qua. Stiamolo più giù perché dà fastidio. Se no, se si vede così... Dai. Si vede comunque, pazienza, perché l'inquadratura è storta adesso. È storta perché ho dovuto mettere il caricabatterie. Adesso va tutto molto bene. Il mio cane vola mentre guarda cartellone che si trasforma in Super Saiyan di quinto livello. Cioè, davvero? Il tuo cane si può trasformare in Super Saiyan di quinto livello? Complimenti! Cioè, quindi grazie a cartellone diventa un Super Saiyan di quinto livello. Interessante. No, interessante. Ho sputato un pochino. Visto se è un chittone o un panettone? Io sono un pandoro. Non mi piace tanto il pandoro perché tutti dicono Io preferisco il pandoro o il panettone perché non c'è l'uvetta. Non ci sono i canditi. Però dai. Più buono il panettone. È un sapore un po' più buono. Demolitor XX. Ti piacciono i ghiaccioli? Non mi piacciono tantissimo i ghiaccioli. Mi piacciono solo i ghiaccioli essenziali. Oppure i ghiaccioli d'oliva. Ma se i manzoni scrive romanzi. Leopardi scrive rolepardini. E se il cartone ne sta di gelato, al cioccolato, dolce un po' salato. Ah, manzoni scrive romanzi. Leopardi scrive rolepardini ovviamente. Perché? Perché pardini? No, per forza. Leopardi. Rolelepardi. Rolelepardi. Ah, rolelepa... Rolelepardi. Brillissimo rolelepardi. Rolepardi. Sì, comunque sì. E se il cartone ne sta di gelato al cioccolato dolce un po' salato, lo possiamo assaggiare come palla pazza che strumpallazza. Però non vola. Giovanni Croce ci chiede. Grandissimo! Ciao, Croce! Perché non esiste l'alfabeto del formaggio di legno? Dovete sapere che c'è un alfabeto diverso. Per dire la A nel formaggio di legno dell'alfabeto, devi dire F. Tutto F. Poi devi dire B di F. Perché inizia il formaggio con la F. Quindi F. Dopo che superi la lettera G, devi iniziare a dire FLE. Perché è formaggio di legno. Se il pane è blu, che tu sei come non sempre Super Saiyan. Quindi sei un dog? No, io sono un not dog. Il bello è che io vedendo il video di mercoledì, domani per me non so gli altri, non c'è scuola. Ah, tu hai visto il video di Domande 1Sense quando ho detto Se metti like, non c'è un professore domani, te non andavi a scuola addirittura. Hai visto il video di martedì. Quindi questa cosa funziona. Mettete mi piace, commentate e condividete questo video. Domani un professore diventerà un alieno. Ma se i cinesi sono arcobaleni, perché la porta è una banana? La porta è una banana perché... Palla pazza che strumpallazza. Ciao, ciao! Mamma mia, ha colpito tutto. Se è un cane e un pollo infilati dentro a cartellone, cosa otterrò? Se è un cane e un pollo infilati dentro a cartellone, ottieni un carpollane. Perché si unisce tutto. Carpollane. Tutto unito. Sono dietro di te. Ma se... Ma se racchetta è una palla e cartellone è totti, chi è fagiolo che puzza di novembre la cacca dall'occhio? Pensavo dall'orecchio stai scrivendo. Dall'occhio. Palla pazza. Chiedo a te. Ok. Ok. No, dai, non puoi dirlo. Non puoi dirlo. Daniele doesn't matter. Ciao RR. Ciao RR. E ciao AF. E ciao Jed derecho. Avvisto, vistato, vistoso, viziato, cugino di visto, ah tipo rap Avvisto, vistato, vistoso, viziato, cugino di visto, avvistato, tasito, tostato, è andato in Cina a mangiare il gatto con le cavallette E cartellone è stato fatto arrosto nel bianco mulino Rappato, brava Dolly Chan Ma secondo te le banane in pigiama pigiamano i sorci petalosi? Banane in pigiama, banane in pigiama Mettiamo la canzone, via Banane in pigiama, le scale scenderanno Banane in pigiama, sono pronte già a giocare The Dave ci scrive Ma se in inglese man vuol dire uomo e car vuol dire macchina Mia zia Carmen, quindi un transformer Sì, tua zia Carmen è un transformer perché car significa macchina e man significa uomo Cioè diventa un uomo macchina Questa parte finisce qua, le domande sono finite, penso di sì però perché non voglio far durare questo video un'eternità E in più mi avete lasciato degli ossimori, bravi bravi Sto guardando l'orario perché devo andare via fra due minuti praticamente Io adoro bere la pasta a colazione mentre mi faccio il bagno sul divano Mi è piaciuto questo video, metto dislike Sto bevendo le lasagne della nonna Il mio gatto dovrebbe volare più velocemente La nonna mi ha fatto saltare il pranzo L'ultima è bellissima, lo ammetto È bellissima, pochi girl, è bellissima Il video è finito, spero che vi sia piaciuto Lasciate un mi piace, un commento Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E nel commento dovete mettere una domanda No sense oppure uno simoro Così apparirete nel prossimo video Non chiedetemi per piacere di salutarvi perché Vi saluto, sì, cioè mi fa piacere salutarvi Però farò un video dedicato Dove saluto Totti, tutti, tutti va bene Palla pazza che strumpa Dovevo lanciarla così forte Ciao a tutti da Avvisto Buiato, ho tre luci Se spengo tutto divento Non so cosa Quindi ciao a tutti da Avvisto Avvistato